Ti faccio una domanda esplicita, siccome stiamo facendo delle ricerche, riusciamo a riprendere con la telecamera i sassolini? Per noi sarebbe veramente una cosa importante, se per te va bene? Cioè capire da dove partono, se partono dal pavimento, se partono dall'alto. C'è alcuni da terra. A finestra non c'è nessuno, cioè lì non... No, ma poi prima proprio da qua, ha passato la porta e riuscita a dove c'era giù. Quella che ha colpito a me la gamba arrivava da là. Ti va di darci ancora una volta, per favore, il segno della tua presenza, senza farci male? Cos'è? Ma va fuori il zoom? No, in alto, cerco di prendere qualcosa in alto. No, ma sarebbe carino riuscire a individuare come fa, cioè da dove viene fuori. Si metallizzano così, eh? Perché è arrivato da tutti i punti e non c'è un qualcosa nel dato, ci sono là e ne cascano ogni tanto con le vibrazioni. C'è Gigi? C'è Gigi? C'è Gigi? C'è Gigi? C'è Gigi? C'è Gigi? Ricordiamoci di prendere poi i registratori che abbiamo lasciato sopra, eh? I registruttori che abbiamo lasciato sopra. No, in testa, no, in testa. Questa dove è arrivata? Va, se ne vuoi tirare non mi fare male. Ma domina un po' quei fuori. No, non so. No, no, no. Quelli sono tanti. Per me puoi continuare a giocare con noi, perché è carina questa cosa, però non ci fare solo del male. Ma il favore fa qua e qua, e qua dietro di me. Io non ho macchine fotografiche. Cioè, sto inquadrando con la... Non ce l'ho... Niente. Trovare dei metodi di... Non ho otto mani. Non riesco a fare... Ma sto rumore che cos'è? E tu fai una foto dove ho la mano io e c'è qualcosa. Prendi la tua camera. ragazza. Ma questa è... sta impazzendo la termocamera, cioè, fa delle cose... Ma non c'è una presenza qua. Sei tu che sei qua vicino a me? Se sì mi accendi per favore le lucini o mi dai un segno della tua presenza?